Biceglie e pillole di libri nel Borgo Antico, oggi ascoltiamo l'intervista a Renato Brucoli, coautore insieme a Ignazio Boi del libro dal titolo Occhi nuovi, le parole che dicono il suo sguardo. Vediamo. Occhi nuovi, le parole che dicono il suo sguardo. Gli scritti di Don Tonino Bello in quest'opera curata da Ignazio Boi e da Renato Brucoli che abbiamo qui con noi. Benvenuto. Qual è il messaggio che Don Tonino lascia alla sua comunità? Il messaggio è sintetizzato appunto in questo volume. Il tema generatore di questo volume sono gli occhi di Don Tonino Bello, cioè il suo sguardo nei confronti dell'altro, sulla vita, sulla Chiesa, sulla storia e sulle storie che ha potuto sperimentare. Nell'introduzione del libro si sostiene che Don Tonino abbia non soltanto occhi buoni, un visus eccellente, insomma, no? Ma abbia soprattutto occhi nuovi, capaci cioè di guardare in maniera nuova, originale, all'esistente. Occhi nuovi, le parole che dicono il suo sguardo. Gli scritti di Don Tonino Bello nel volume curato da Ignazio Boi e da Renato Brucoli che salutiamo e ringraziamo. Grazie a loro. Così come ringraziamo Libri nel Borgo Antico, la rassegna letteraria che si tiene ogni anno a Biceglie nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.